Se noi stiamo parlando di strada regionale vuol dire che la strada non è stata declassata, altrimenti nei verbali ci doveva essere scritto strada comunale o via numero quello che vogliamo. Quel tratto ormai ribattezzato degli autovelox killer che è già valso al comune di Cadoneg il primato italiano, 40.000 le multe combinate, secondo l'associazione maggiore tutela non può essere declassato a strada comunale, non senza il via libera del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. È questo uno dei punti su cui poggerà la strategia difensiva dell'associazione che ha già scritto a Matteo Salvini e che ieri sera ha incontrato gli automobilisti multati, circa 150. Ad oggi io non ho né una motivazione per cui è stata declassata, se è stata declassata, né quindi il parere del MIT, del Ministero dei Trasporti, su questo declassamento e né i documenti che comprovano che a tutti gli effetti sia strada comunale. Secondo punto l'ipotesi di truffa cui il gruppo sta lavorando. La Cassazione con una recentissima sentenza ha dichiarato che gli autovelox nascosti che portano introiti ai comuni è equiparato alla truffa. I cittadini durante l'incontro di ieri hanno dato mandato all'associazione di presentare un esposto. Chiederanno non solo la magistratura ma anche a Dana che corte dei conti di valutare eventuali responsabilità anche da parte delle autorità. E proprio in queste ore intanto le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere anche private. L'autore dei danneggiamenti ai due velox di mercoledì notte potrebbe avere le ore contate, un atto vandalico che anche l'associazione che difende gli automobilisti ha condannato. È ovvio che quelle azioni che sono avvenute danno la possibilità al primo cittadino di passare da vittima e questo non va bene perché non è lui la vittima, sono le persone e le famiglie che non sanno come pagare le multe, non hanno punti patente per andare al lavoro e a tutti.